Vabbè ci tengo a ringraziare uno per uno i 10.000 che hanno votato perché è la prima volta nella storia della Lega che una scelta così importante non viene presa da alcune persone ma viene presa da 10.000 persone nella stessa giornata. E quindi il primo dato eccezionale per la Lega è questo, prima volta nella storia che lo facciamo ed è andata strabene. Secondo, la prima persona che... non ho risposto al telefono ancora nessuno, la prima persona che cercherò al telefono ovviamente è Umberto Bossi perché senza Umberto Bossi non saremmo qua e penso che possa essere, anzi debba essere, una parte ancora fondamentale perché i consigli e il fiuto di Bossi sono assolutamente per me e per la Lega necessari. Ad esempio sull'Europa che è la prima battaglia su cui vorrei impegnare la Lega Panciaterra, Bossi, da 20 anni l'ha vista più lunga di tutti a differenza dei Prodi e dei Berlusconi che dicevano che l'euro sarebbe stata la nostra salvezza. E quindi la prima battaglia è per riprenderci la sovranità economica, sul commercio, sulla moneta, sull'agricoltura, sul lavoro, sulle pensioni. Quindi ci siamo rotti le palle che Bruxelles ci dica come si fa colazione, come ci si deve suicidare, si deve andare in pensione 80 anni e come si pesca e come si fa il formaggio. Quindi questa non è l'Europa, questa è un'Unione Sovietica. Questo è un gulag da cui come Lega proveremo a uscire alleandoci con chiunque ci stia e quindi ci saranno al congresso francesi, austriaci, olandesi, svedesi, russi. Quindi quelli che pensano a un'altra Europa che è possibile sono nostri alleati. Chiunque ci abbia portato in queste condizioni, quindi PD e PDL, ovviamente ha qualcosa sulla coscienza. E poi altri temi. Quindi una lega di battaglia, una lega fra la gente, alcuni referendum che proporò al congresso, su cui raccoglie le firme già dal 2014, per abolire la figura dei prefetti e quindi non toccare quello che è presenza sul territorio, quindi gli sprechi non sono i comuni, non sono le province, non sono le regioni, ma sono tutte le presenze di occupazione di uno Stato ladro e sul loro del fallimento. Quindi via i prefetti, rivediamo alcune leggi, se è possibile, che hanno massacrato la nostra gente. Le riforme Fornero sulle pensioni e sul lavoro sono due porcherie che dovrebbero portare in uno Stato normale all'esilio, sia della signora Fornero che del signor Monti. E noi proveremo a cancellarle. E poi, quando proveranno a portare l'indulto, l'amnistia alla Camera o al Senato, le proteste dei grillini saranno all'acqua di rosa a confronto di quello che faremo noi e siamo pronti a spaccargli le scrivanie sulla testa perché non deve uscire un solo delinquente di galera e quindi, siccome ci proveranno, noi siamo pronti. E poi di fianco ai nostri sindaci e ai nostri governatori, ai nostri sindaci che più vengono arrestati, più si incazzano e più governano bene. Quindi non c'è niente da inventare, c'è solo da essere in mezzo alla gente. A partire dal Veneto, per sostenere il referendum per l'indipendenza del Veneto, visto che già 150 comuni, non solo leghisti, l'hanno approvato e deliberato. E quindi la lega di battaglia. Diciamo che negli anni passati, anche per necessità, abbiamo scelto di mediare, di dialogare, di emendare, di accordare. Basta. Tiriamo dritti per la nostra strada. Bene, perfetto, finito. Andate a... Gelfi. Vai. Segretario, questo vuol dire una lega che in Italia, parliamo di quadro nazionale, vada sola? Perché voi governate in tre regioni importantissime con il centro-destra. Che cosa succede sul piano degli alleanti? Noi manteniamo i patti, là dove stiamo governando, e bene, in base a programmi chiari, e quindi nelle regioni e nei comuni. A livello nazionale, io non penso che si andrà a votare molto presto, perché il governo napolitano, penso che rimarrà in sella molto a lungo, almeno fino a che, questa è la mia personale convinzione, non porteranno a termine quello che Bruxelles si aspetta, ovvero sia vendere o svendere, gli ultimi pezzi di aziende sane rimaste, quindi Eni, Enel, Finmeccanica, Ansaldo, Fincantieri, questi sono stati scelti per fare i curatori fallimentari, prima Monti e poi Lette, e quindi non se ne vanno fino a che il fallimento, dal loro punto di vista, non è arrivato alla fine, e quindi benvengano gli agricoltori che bloccano il Brennero e benvengano i forconi che bloccano le autostrade, quindi non è più il tempo delle mediazioni, noi stiamo con chi blocca e non con chi svende. E quindi poi quando bisognerà ragionare di alleanze, ne ragioneremo adesso e presto. Posso solo dirvi che per le elezioni amministrative ci sarà ampia possibilità di scelta in autonomia per ciascuno, non ci saranno accordi o alleanze obbligate, chi vuole andare da solo va da solo, chi vuole andare col centro-destra va col centro-destra, chi vuole andare con le liste civiche va con le liste civiche. Ogni territorio si ha un movimento indipendentista anche nelle alleanze e farà quello che ritiene di fare. E te mette una squadra? Il Milan. No, c'è... Anche va un grande... No, appunto. Vediamo, vediamo, abbiamo detto la prima telefonata la faccia Umberto Bossi, poi... c'è tantissima gente in gamba, girando in questi giorni il Veneto, il Piemonte, la Toscana, l'Emilia, la Liguria, ovviamente la Lombardia, c'è tantissima gente in gamba, a partire dai nostri sindaci, quindi attingeremo a piene mani. Sarà ancora il suo sessore, il Vardo Bossi? C'è un congresso in mezzo, io posso... ho garantito che chiunque sarà il segretario federale non sarà un segretario alla Renzi, io so io e il resto è merda. Sarà un segretario condiviso, che ascolta e che partecipa, e quindi... e quindi ascolterò i partecipi, però Bossi sarà assolutamente della partita. Segretario, come vanno i cambiamenti intervenuti nel centro-destra, nei suoi posti di essere? Osservo, senza particolare entusiasmo, o patemi d'animo, onestamente, quindi osservo, l'importante è che tutti mantengano i patti laddove li hanno sottoscritti, quindi che nelle regioni non ci siano problemi. Poi, ripeto, io guardo a quello che si è fatto, le battaglie che ci aspettano, su alcuni temi come l'indulto, come l'amnestia e come il calare le braghe di fronte a tutte le richieste europee, purtroppo sia il centro-destra 1 che il centro-destra 2 non è che si siano molto differenziati negli anni passati, e quindi... Ma chi siete più vicini voi? Siamo in mezzo. Noi siamo... vedremo di passare meno tempo a dialogare con le segreterie di partito e più tempo a dialogare con gli agricoltori e con i forconi. La segretaria ha visto che dopo 20 anni di successione, indipendenza, eccetera, a Roma non si sono venuti grazie a risultati. Adesso, giustate, a dire, la mela della sfida tra i partiti anti-europeisti che ci sono nelle altre nazioni del continente? Beh, andiamo a priorità. La priorità per la Lega e per me è il lavoro. La priorità di oggi è il lavoro. Non è la riforma elettorale, non è l'indulto, non è l'amnestia. La priorità è il lavoro. E siccome da quello che penso e che vedo quello che blotta il lavoro, l'impresa, lo sviluppo, il commercio, gli stipendi sono le dementi regole dell'Unione Europea, la priorità è smantellare le regole dementi e criminali dell'Unione Europea. Quindi, chi ci sta fa un tratto di strada con me. A livello italiano continua a rimanere indipendentista. Evidentemente, non più passando da Roma, dove la truppa leghista starà a controllare, ripeto, farà le barricate contro l'indulto, contro l'abolizione della Bossifini. Però le riforme non passano da Roma, passano più probabilmente da Vicenza. E quindi, se il Veneto arriva a referendum, come la Catalogna arriverà a referendum, come la Scozia arriverà a referendum, quando c'è una crepa nel muro, poi il muro cede. Quindi siamo pronti a infilarci.